Da anni, Agenzia Formativa si occupa della formazione nel mondo dell'insegnamento. Grazie alla collaborazione di partner internazionali, puoi iscriverti al nostro corso di specializzazione al sostegno. È riconosciuto in Italia. Affrettati, i posti sono limitati. Assessore Caracappa, ha varato il cartellone, è arrivato in ritardo, ma ormai è una consuetudine, non ne facciamo neanche una colpa. Soddisfatto di quanto messo in programma? Considerato l'eseguità delle risorse, assolutamente sì, ma soprattutto per il grande coinvolgimento di persone che parteciperanno agli eventi. Come è noto, il cartellone era partito già almeno da una decina di giorni, ma c'è una questione, come sempre, di allineamento con gli uffici, con le necessità di ragioneria, con la compatibilità delle voci dell'imposta di soggiorno. Abbiamo capito che il cartellone dell'estate s'accento e prima di fine luglio non si può varare. Ma, come dire, ci sono una serie di considerazioni. In realtà la prima è stata che aspettavamo, come tantissimi, queste benedette norme che pensevamo potessero alleggerire un pochettino la possibilità di fare anche spettacoli all'aperto. Il famoso decreto discoteche, così come era chiamato, che si aspettava per la metà di luglio. Poi il governo ha assunto una decisione drastica con la chiusura delle discoteche, quindi con la conseguente possibilità preclusa di andare a svolgere delle manifestazioni dove ci potesse essere assembramento. Devo dire che noi abbiamo avuto una costante interlocuzione con la Questura per andare anche a poter stilare un programma che si articola, poi come state vedendo, in luoghi che sono all'aperto, però dove è possibile fare un contingentamento di pubblico. Quindi abbiamo scelto quattro luoghi, i due atri del Comune, il Museo del Carnevale e due grandi eventi che faremo allo spazio antistante le terme. Lei per tanti anni ha fatto il direttore artistico di una manifestazione, quindi conosce molto bene come funziona. Pensa di aver accontentato tutti con questo cartellone? Assolutamente no. Assolutamente no. Siamo stati costretti a fare delle scelte in base a quelli che erano i bilanci, praticamente le somme che abbiamo a disposizione. 51 mila euro pensa che sia pochissimo per le state esercenze? Ma in realtà per gli spettacoli la somma impegnata è di 31 mila euro, tutto il resto sono accessori, sono necessari, c'è la SIAE, ci sono i service per quasi una sessantina di spettacoli, ci sono i presidi anti-covid, non trascuriamo assolutamente tutte le certificazioni fatte con scia, quindi già 20 mila euro sono stati impegnati per altre cose. E i criteri che l'hanno portata a scegliere determinati artisti rispetto a... I criteri sono state le proposte intanto che ci sono arrivate. Poi abbiamo anche fatto una scelta in base a quello che io ho definito la necessità di dare continuità alle manifestazioni, per cui siamo arrivati con le giornate bacchiane a definire la terza stagione di musica classica, con Shaka Comics arrivare alla seconda edizione di Shaka Comics. Come dire, mi piacerebbe lasciare a chi verrà dopo di me una serie di eventi che io già sono storicizzati, per cui... Vi faccio portavoce di una serie di critiche, una volta che si è diffuso il cartellone subito sul web, insomma qualcuno ci si aspettava magari un evento che potesse richiamare un evento più pop, diciamo, più magari da piazza, sebbene nel contesto ci sono estati e cartelloni di paesi anche limitrofi con molti concerti con nomi altisonanti che possono richiamare il pubblico più giovane, ad esempio in questo cartellone non pensa di aver, ad esempio, tralasciato i più giovani che in questo momento si parla tanto di esodo da Shaka, vanno altrove. Ma guarda, su questo, come dire, io mi sono mosso in perfetta linea con quelle che erano le indicazioni che ci venivano date dalla Questura. Dalla Questura ci assicurano che gran parte di questi eventi non hanno nessuna licenza e nessuna autorizzazione. Noi pur avendo avuto ben tre manifestazioni, le richieste di ben tre manifestazioni che prevedevano, come dire, un uso dello spazio pubblico e quindi non contingentato, abbiamo preferito non farlo perché non possiamo addossarci la responsabilità come organizzatori di un evento che non corrisponde assolutamente a quelle che sono le linee guida per il distanziamento e il contingentamento. Per il resto non mi nascondo che abbiamo avuto diverse proposte di compartecipazione a concerti, però non ci siamo sentiti assolutamente con 31 mila euro a disposizione di investire somme che andavano da 10 ai 15 mila euro per eventi che potevano coinvolgere fino a un massimo di mille persone e con costi dei biglietti che arrivavano fino a 70 euro. Quindi è stata una scelta ponderata, oculata, abbiamo preferito dare voce e spazio ai tanti, tantissimi, vedete quanti sono gli eventi e quanti sono le persone coinvolte che in questo momento hanno bisogno di parlare alla città, di farsi sentire, di far capire che in questi anni hanno studiato, hanno dato voce alle loro vocazioni artistiche e questa è stata la nostra scelta. Domanda classica dai stati esaccente, il Ferragosto cosa prevede? Il Ferragosto in questo momento prevede un concerto di giorno 14, quello dell'evento pop, sempre fatto in spazio contingentato con i feeling. Per il 15 avevamo pensato di chiaramente lavorare in armonia con quella che è la tradizione storico-religiosa della città e ci è stata inibita assolutamente anche la banda musicale. Niente giochi d'artificio, a lei non piacciono? No, no, a me piacciono assolutamente, il problema è capire l'utilità e capirne, come dire, in base a quelle che sono le risorse e quello che si può fare, non mi nascondo che ci sono interlocuzioni in corso, ecco. Possiamo dire che sarà un'estate esaccente senza giochi d'artificio per sintetizzare o no? No, guarda, su giochi d'artificio già ci tenta di farlo alla stampa, per cui non è assolutamente... Ma noi li facciamo, siamo coi bocchi. Assolutamente, positivo, siete stupefacenti.